L'ultima cosa invece non possono fare tra la più americana delle nostre attrici, l'esperienza in film importanti, divertenti, che cosa ti ha lasciato quella stagione, la stagione di Lidia? Mi ha lasciato tante cose, mi è servita moltissimo, sono stata lì per 12 anni, ho fatto 17-18 film, di nuovo alcuni molto belli e alcuni molto meno, però mi è servito in tutti i sensi, proprio come incontri, le cose che ho sentito, le cose che ho visto, le persone che mi sono diventate amiche, poi sono diventata amica, anche un grande divertimento perché appunto comunque un posto in Los Angeles, che se vai, io poi sono stata appunto dai 23 ai 35, ecco, quindi in un momento anche c'è una curiosità, adesso sarebbe diverso, ecco, io conservo nel complesso un ottimo ricordo della cosa, poi penso che col segno di poi avrei dovuto anche fare scelte diverse, avrei potuto fare anche molto di più, come ti ho detto prima, sono più le cose che non ho fatto che quelle che ho fatto, poi quelle che ho fatto alcune sono memorabili, diciamo, che se ne parla ancora molte di più, no, però avrei potuto fare molto di più, questo un po', non è esattamente un rimpianto perché non ci penso la notte, però se sono sollecitata a parlarne, penso che avrei potuto fare anche di più, e che la mia natura ambivalente, mi ha, poi la mia natura, mi ha anche fatto fare meno di quanto avrei potuto fare in quel posto. L'ultima cosa, veramente, perché se ne avrei, non so, andrei avanti per altre due ore, naturalmente, in quel periodo è l'amica di Julia Roberts, e c'è questa storia, non so se poi si ha leggenda, Nica, no, e sono stati due brumini per due film che hanno, no? No, primo perché appunto vinceva sempre lei, e quindi, c'è quello io, no, no, cioè, no, l'ho conosciuta in varie occasioni, ed era una ragazza, veramente, era veramente qualcosa, cioè, proprio come un animale da cinema, e quindi io mi rendevo conto ogni volta che ci ritrovavamo, noi due, già io sono straniera con l'accento reietta, io andavo proprio a fare i ruoli delle, cercavo di fare i ruoli delle americane, non i ruoli delle straniere, quindi partivo già con un handicap, dovevo essere proprio qualcosa di più, di più, di più, di più, di più, già vivi vicino, o contro Julia Roberts, o Masterman, Demi Moore, cioè, vabbè, c'è che devo fare, ho fatto quello che ho potuto.